Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video e vi ricordo se già non l'avete fatto di iscrivervi al canale YouTube Universo Foto e abilitare la campanella per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Oggi di cosa vi parlo? Oggi vi parlo di audio e nello specifico del microfono omnidirezionale Lavalier Wireless Synco T1 ma prima la sigla. Bene amici questo è uno dei tanti tutorial dell'audio che state vedendo se non avete ancora visto i tutorial precedenti vi posto la playlist qui sotto in modo da poterli vedere in maniera sequenziale. Questi tutorial sono atti ad aiutare voi videomaker che vi state approcciando al mondo del video a quale microfono poter scegliere. Abbiamo visto quindi un po' di nozioni teoriche, abbiamo visto il lavalier a cavo, adesso vediamo un sistema sempre a lavalier quindi omnidirezionale ma in questo caso non più a cavo ma wireless con un costo sicuramente contenuto. Parliamo del Synco T1, come vedete dal packaging è un prodotto che ha un trasmettitore e un ricevitore. Vediamo dietro e vi posterò nell'articolo sul magazine universofoto.it tutte le informazioni tecniche del prodotto quindi andatelo a cercare sul nostro sito online e vi posto anche in descrizione il link all'articolo diretto. Microfono perché senza cavo? Perché in alcuni casi può essere comodo non avere dei cavi in mezzo, ovviamente il costo è superiore e ovviamente quando manca il cavo c'è sempre soprattutto nei prodotti di fascia veramente bassa un pochino di rumore di fondo. Possiamo notare che in questo prodotto nonostante il prezzo sia veramente concorrenziale ha una ottima qualità sonora. Un'altra caratteristica da notare che vedete dall'immagine qua sopra è il sistema di trasmissione. Molto spesso troviamo dei trasmettitori e dei ricevitori che hanno delle antenne molto lunghe e queste antenne molto lunghe a volte danno fastidio. Perché danno fastidio? Danno fastidio per il semplice fatto che si vanno a ingarbugliare a toccare contro i vestiti o contro altri prodotti o magari se posizionati sopra la fotocamera rischiano di andare a entrare nel campo visivo. Questi prodotti invece non hanno questa problematica. Vediamo quindi a questo punto il contenuto della confezione del Synco T1. Come sempre comoda sacca contenitiva semirigida di trasporto e all'interno troviamo i prodotti. I prodotti come vi avevo detto hanno questa particolare antenna che è rigida e non occupa troppo spazio. I prodotti di per sé sono piccoli, compatti e già di primo acchitto appare molto semplice nell'uso. C'è un interruttore on off e abbiamo a fianco canale e volume quindi noi possiamo scegliere che canale utilizzare e il volume da andare ad applicare e accenderlo e spegnerlo. Nel ricevitore ovviamente è colui che riceve il segnale arriva e abbiamo il cavo che è qua e adesso vi faccio vedere che si va a installare sulla fotocamera e vi faccio una simulazione. Dall'altra parte abbiamo il disegno del microfono a cui ci andiamo ad apporre il lavalier. Questi prodotti ovviamente devono essere alimentati e devono essere alimentati sia il trasmettitore che il ricevitore, vanno con due pile stilo cada uno in questo caso non incluse nella confezione. Vediamo quindi il contenuto della confezione. abbiamo il lavalier che lo possiamo andare ad installare con massima semplicità nel trasmettitore. Una cosa bella è che noi possiamo oltre ad agganciare avvitare per evitare erronei cadute o erronei sganciamenti durante la ripresa. La clip ovviamente per andarla posizionare sempre e comodamente sui propri vestiti. Per il ricevitore abbiamo due tipologie di cavo. Abbiamo un cavo che serve per collegare lo smartphone e un cavo che serve per collegare la macchina fotografica. La differenza è presto detta, a parte che quello della fotocamera è AL, la sezione della fotocamera e quella dello smartphone è diritta, quello dello smartphone ha come vi ho fatto vedere nel video precedente dell'altro lavalier a cavo, 3 pin, mentre quello per fotocamera ne ha 2. Quindi in questo caso dobbiamo dirgli a priori se è collegato a un telefono o una fotocamera. In più che cosa abbiamo? Oltre al manuale di istruzioni abbiamo anche il supporto per poter agganciare il ricevitore alla fotocamera e vi faccio vedere come fare. Quindi immaginiamo che noi abbiamo il ricevitore e abbiamo una fotocamera. Facciamo una simulazione di installazione per vedere gli spazi che vanno a essere occupati. Agganciamo al ricevitore la vite e poi stacchiamo il gancio che si potrebbe posizionare a clip sulla tracolla della fotocamera ad esempio e andiamo a posizionare questo sistema che mi dà due possibilità di aggancio del prodotto stesso. Vediamo nel dettaglio come fare. Io intanto vado a riagganciare quindi il tutto è veramente intuitivo e semplice non serve neanche sfogliare il manuale e noi ci troviamo un cold show quindi un contatto a freddo o una vite un quarto quindi noi potremmo andare ad installarlo sulla vite un quarto o su un contatto a freddo posizionato o in un cage come vi sto facendo vedere adesso oppure su una fotocamera. Quindi in questo caso lo andiamo a installare come vi sto facendo vedere su una fotocamera vado a bloccare il contatto in modo che rimanga ben saldo e non si sposti. Possiamo inserirlo da un verso piuttosto che dall'altro quindi è indifferente il verso in cui lo andiamo a posizionare. L'ideale è sempre quello di tenere l'antenna direzionata verso dove è il trasmettitore ma a meno che non dobbiamo andare veramente tanto lontani non è un problema e agganciamo nel lato microfono il cavetto. Ovviamente stiamo attenti al cavetto di non farlo entrare nell'inquadratura e il prodotto da questa parte è pronto e dall'altra pure. Quindi abbiamo tutti gli effetti la possibilità di utilizzarlo in questa modalità su una vite un quarto quindi magari su un accessorio se io ho un cage posso agganciarlo non per forza su un contatto a freddo e il trasmettitore me lo aggancio a clip direttamente sulla mia cintura ad esempio. Bello come vi dicevo il contenuto della confezione il prodotto ha un trasmettitore e un ricevitore. Se avete dubbi o domande sul prodotto in questione ovviamente non esitate a porle nei commenti, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, iscrivetevi al canale Universo Foto abilitate la campanella per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona giornata! Ciao! 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 Ciao!